Oggi siamo qui a presentare un capolavoro dei Vercellesi, un capolavoro per Vercelli. Vercelli, ieri e oggi, è sempre una città, un amore. Questo lo possiamo dire, lo possiamo dire con gli amici qui presenti che hanno lavorato. Quindi ringrazio per questo Gianni Pronuzzi Picco, il Gianluca Marino che si è molto speso affinché questa opera raggiungesse proprio questa grande eccezionalità di azione. Ringraziamo anche il signor Chiais per la messa a disposizione del materiale fotografico. Allora, Vercelli è una città, come abbiamo sempre detto, bella, importante. Dobbiamo crederci prima di tutto noi e questo dimostra che i vercellesi credono nella nostra città, ma vogliamo farla conoscere. Allora, quale mezzo per farla conoscere? Pubblicando, pubblicando la Vercelli di ieri, la Vercelli di oggi, commentando e in questo modo andando a promuovere quelle che sono le caratteristiche, le bellezze della nostra città. Quindi Gianni, da dove nasce questa voglia di far conoscere la nostra città che condividiamo? Diciamo che nasce da sempre, forse, oserei dire da quando ero bambino, perché mi è sempre piaciuto, sono sempre stato molto curioso e molto interessato alla città. Poi, crescendo, ho sempre cercato qualcosa di particolare, gli angoli, i cortili, le immagini. E questo è stato, diciamo, il momento che mi ha spinto a cercare di fare questo libro. Devo dire una cosa importantissima. Questo libro è stato già ristampato, perché le prime 130 coppie sono state vendute in un baleno e adesso sono uscite le altre. Diciamo che siamo contenti di quello che è stata, diciamo, la vendita, perché permette di aiutare il Centro Ascolto Antiviolenza per le Donne di Vercelli, che è questa la cosa importantissima. che è un'altra cosa, perché vogliamo bene a Vercelli, vogliamo che anche le donne della nostra città riescano a superare determinate situazioni. Gianluca vi dirà qualcosa sulla parte di ricerca bibliografica, storica e curiosità. Una scoperta, una riscoperta di Vercelli, fatta mediante immagini, che in questo caso sono state documentazioni, ma anche collante storico. C'è stato infatti un confronto tra le immagini della vecchia Vercelli, quindi di fine 800 e inizio 1900, e la Vercelli di adesso, e soprattutto un libro arrecchito dai testi con molte curiosità storiche a livello di aneddoti su una Vercelli che comunque continua a rivivere nel suo spirito. Un grazie quindi oggi al Sindaco, all'Associazione 12 Dicembre Olnus e al signor Pierluigi Chiais che ci ha fornito queste preziosissime immagini.